Molini Minniti ha adottato la piazza della rotatoria di via San Leonardo a Melito Portosalvo, un esempio di come il contributo dei privati a favore della cosa pubblica sia oggi più che mai un elemento di straordinaria importanza. Grazie all'intervento e all'impegno civico e solidale del geometra Carmelo Minniti e dai collaboratori della sua azienda Molini Minniti, la piazza della rotatoria di via San Leonardo, in cui si erge la statua della Madonna della Pace, portata da Mezzugori per opera di Don Peppinello Nipote, è stata bonificata e rinnovata con fiori, piante e pregiati elementi di arredo, rendendola fruibile alla venerazione pubblica e pregiandola di essere uno dei più bei esperimenti riusciti di decoro urbano non solo della cittadina melitese ma dell'intera area grecana.